La Regione Toscana e il Comune di Firenze hanno celebrato con due giorni di iniziative i vent'anni trascorsi dal Social Forum europeo che si svolse a Firenze dal 6 al 9 novembre 2002 con una straordinaria partecipazione di pubblico ed efficace risonanza a livello mondiale di contenuti. Primo evento la proiezione nell'auditorium della Biblioteca delle Oblate del docufilm Firenze e il nostro domani, girato nei giorni del Social Forum. Poi l'inaugurazione della mostra Firenze e la Toscana a vent'anni dal Social Forum con fotografie di Massimo Sestini e dall'Agenzia di Informazione della Regione Toscana. A seguire la tavola rotonda in cui il presidente della Regione Eugenio Gianni e il sindaco di Firenze Danio Nardella hanno dialogato con i protagonisti di quella stagione, l'ex sindaco Leonardo Domenici, l'ex presidente della Regione Claudio Martini, la loro portavoce del Social Forum Tommaso Fattori e rappresentanti della consulta degli studenti. Anch'io mi trovai a vivere quei momenti e devo dire che furono espressioni di una capacità della Toscana di parlare al mondo perché indubbiamente il Social Forum significò manifestazione pacifica, molto forte, molto spontanea con tanti giovani e quella sorta di rivoluzione di costume nell'approccio alla politica, alla partecipazione che allora si sollecitava e indubbiamente ha influenzato. Ha influenzato la vita delle istituzioni, le risposte alla gente, però un po' di Social Forum ci vorrebbe anche oggi. Firenze oggi a distanza di 20 anni è certamente una città diversa, più consapevole, è una città che non ha mai smarrito l'impegno per la pace. Pensiamo alla manifestazione sulla guerra in Ucraina di marzo di quest'anno in Piazza Santa Croce con più di 20.000 persone, è stata la più grande prima di quella di Roma due giorni fa. È una città dunque che mantiene molto chiaro il suo impegno, che mantiene chiara la sua missione di essere città universale, capace di interpretare un globalismo nuovo, che sia davvero sostenibile. La seconda giornata è stata invece declinata al femminile con tre eventi, il primo sul ruolo delle donne nelle istituzioni per un'Europa più giusta e solidale, il secondo sulle donne e la pace fra non violenza e resistenza e l'ultimo su donne, scienza e conoscenza per uno sviluppo umano, equo e sostenibile. La Toscana parlava alle donne vent'anni fa perché il tema dei diritti femminili era centrale anche nel dibattito del social forum, lo è ancora oggi a vent'anni di distanza. Questo appuntamento aprirà quella che è la Toscana delle donne, quindi questo modo che la regione ha per sostenere il valore delle donne, con tutta una serie di focus, di dibattiti, di confronti che ci riportano un po' al momento del dibattito, del confronto, che è sempre positivo. La Toscana delle donne si terrà a Firenze dal 20 al 25 novembre 2022.